Ciao mamme e papà! Oggi vi presentiamo il modello Range Rover Belar 12V. Accendiamo l'auto, senti come rugge, le luci sono indipendenti, le puoi accendere o tenerle spente. Leva della marcia avanti o marcia indietro o lo puoi guidare con il telecomando. A sinistra abbiamo la radio, l'indicatore della ricarica della batteria, importantissimo per sapere quanta batteria ci resta prima di uscire di casa. Se rimaniamo senza batteria non c'è problema perché sotto dietro c'è una assa per poterla trascinare. Le porte si aprono verso fuori, tanto quella a sinistra come quella a destra. La sicurezza del bambino è assicurata con una cintura di sicurezza che allacciamo una volta che il bambino si siede. Abbiamo un volante multifunzione con musica e il clacson. Sospensioni sulle quattro ruote e, importantissimo, il telecomando per controllare la guida dell'auto a distanza. che vi piace o non vi piace.